Dopo due giorni di chiusura della scuola Falcone-Borsellino per consentire agli addetti di effettuare la disinfestazione, stamattina è emerso cosa? Arrivando a scuola ho accompagnato il piccolino, mio nipote, e tutti i bambini lì, i compagnetti di scuola, mi dicono Nonna Di Giuseppe, guarda un po', ci sono gli insetti per terra. Si lamentavano perché non si potevano poggiare a terra, perché i genitori già avevano detto state attenti, non mettetevi in ginocchio, non mettete le mani giù. Io a questo punto vorrei fare una segnalazione, in quanto nonna, non genitore, perché dovrebbe essere il compito dei genitori, ma non è possibile che sia il mio figlio a venire, in questo caso ci metto la faccia io, è una segnalazione che faccio ai preposti, perché mi sta bene la disinfestazione, due giorni di vacanza mi sono goduta i miei nipoti, ma la pulizia è un fatto importante, perché i bimbi a contatto, anche con il prodotto disinfestante, non so che cosa può portare ancora più grave è trovare gli insetti morti giù per terra nel pavimento. Io non so a che rivolgere, non è un problema di amministrazione, assolutamente, e non voglio fare polemiche o demagogie inutili, è un problema di civiltà. Oggi è una giornata storica per la Sicilia, i sette potenti del mondo si sono riuniti a Taormina, e mi ramarico che questo non sia stato fatto ad agrigendo, già è un qualche cosa di grave. Ma poi che io ancora, nel terzo millennio, mi debba lamentare per la pulizia, è una cosa veramente incredibile. Lei ha avuto modo di contattare qualcuno della scuola stamattina, trovandosi lì, ha avuto modo di parlare con qualcuno? No, a dire il vero no, me ne sono andata disgustata e arrabbiata. Io ho parlato con chi era presente, ma mi hanno allargato le mani dicendo che loro spesso scrivono, questi loro sono coloro i quali io tutti i giorni vedo, gli insegnanti, ma gli insegnanti cosa possono fare? Non possono fare gli insegnanti, gli addetti alla pulizia. Gli addetti alla pulizia ci sono, ma non so dove sono. Quindi io non ho chiesto a nessuno, mi sono semplicemente lamentata con me stessa, però la rabbia è stata tanta e ho dovuto contattare Sicilia TV. Ecco, questo è uno sfogo da nonna che si preoccupa per un futuro ancora in incognita per i giovani. Io ho chiesto scusa se qualcuno magari potrà prendere malamente questa mia segnalazione, ma è una segnalazione ed è solo un riguardo ai nostri bimbi, al nostro futuro. Grazie, grazie a Sicilia TV che mi ha dato questa opportunità. Grazie ancora.